e te via che arriva via che arriva via che arriva ancora sei pazzo ma che cazzo fai? sei impazzito te da lì non ce la farei mai devi arrivare da là diritto ma se arrivi lungo ce la fai a venire su ma devi arrivare lungo da sotto è quasi impossibile per noi eh ma non gli fa niente ma tiene eh devi arrivare molto lungo e basta devi arrivare da sotto appena arrivi lì in piano vai via forte dai l'hai pulita tutta adesso su è buona è buona va che arriva questo mi salta d'osso lo so già eh quasi ce la facevi e vai quasi ce la facevi dai su 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 ho detto no giù via vai buona e allora scendiamo? Civi tocca a te Vito devi provare ancora Civi sono andato su io devi adesso anche te Vito devi provare allora scendiamo se la faccio la butto giù la volta si da qua si da qua ti conviene se no devi fare la salita e scendi dai tornanti vedi te scendi no porti giù te sei in mano dopo devo risalire a piedi no se sappiamo che poi dovevo scendere di qui non sali no saliamo vabbè saliamo